Un'inchiesta sulla gestione della pandemia fa tremare i vertici dell'ASL di Pescara. La Procura della Repubblica del Capoluogo Adriatico ha inviato un'informazione di garanzia al direttore generale dell'ASL 3, Vincenzo Ciamponi. Con lui è indagato in concorso morale e materiale anche il direttore sanitario Antonio Caponetti. Nei giorni scorsi in ASS avevano eseguito un decreto di esibizione e avevano acquisito verbali atti relativi all'emergenza e dati sui contagi. L'inchiesta infatti è scaturita a seguito della crescita esponenziale nelle ultime settimane dei casi di Covid a Pescara e nell'area metropolitana. Gravi i reati contestati che vanno dall'abuso d'ufficio all'epidemia colposa. A far sapere di aver ricevuto l'avviso di garanzia è stata la stessa azienda sanitaria. Un massima fiducia nell'operato della magistratura, ha dichiarato il direttore generale Ciamponi.